Il 25 giugno salperà da Barcellona una barca piena di tante cose da rivendicare, cose che partono dalla società civile, diritti rivendicati che arriveranno a Genova il giorno dopo, noi Modena City Rambles aderiamo volentieri a questa bella iniziativa, un'iniziativa che in qualche maniera ci coinvolge perché parla la nostra stessa lingua e soprattutto guarda a un mondo nel quale ci riconosciamo pienamente, un mondo in qualche maniera diverso e migliore di quello in cui noi ci troviamo a vivere in Italia, come penso anche in tanti altri posti del mondo, i migranti italiani all'estero si uniscono a chi in Italia ci vive nell'ideale di cercare di lottare e lavorare per una società migliore, per un mondo diverso, un mondo in cui ci sia davvero una cultura dei diritti e si neghino tutte quelle cose che in Italia invece oggigiorno pare siano dominanti, una cultura della sopraffazione, dell'individualismo, una cultura della violenza, una cultura della volgarità, una cultura dell'illegalità, quindi come gruppo e come singoli individui soprattutto cittadini non possiamo che unirci idealmente con grande gioia e convinzione a questa bella veleggiata.